Si parte con tanto entusiasmo e tanta voglia di far rivivere ai fanesi e ai turisti il periodo medievale di Fano. Per l'appunto voi avete quest'anno inaugurato anche questa mostra, che cosa possiamo vedere al suo interno? Al suo interno raccontiamo la storia del Palio delle Contrade, quindi dieci anni di storia del Palio con tutte le foto più belle di queste edizioni, dove all'interno ci sono le foto anche delle Contrade, ci sono dei manufatti che sono stati fatti per l'evento, quindi racconta un po' questi dieci anni di storia del Palio delle Contrade, che da quest'anno prende la svolta e si chiama in Malatesta Fano e riprende il nome storico che aveva nel 90. C'è qualche personaggio che vediamo nelle foto in particolare? Beh, in particolare nelle foto vediamo un po' tutta la storia, quindi dai gemellaggi alle Contrade, a tutti i responsabili di fazione, sono quasi più di 100 foto, quindi raccontiamo una città che si è impegnata in questi dieci anni per raccontare questa storia. Personalmente c'è qualche ricordo a cui è più legato? Vabbè, in questa mostra posso raccontare un'anedota che non ho notato, ho fatto alle quattro a guardare i video, perché vedere la crescita di una manifestazione non è così scontato e chi la vive e chi la organizza non si nemmeno rende conto della crescita. La foto che sono più legato forse è la mia, però, che ha sputo il fuoco, però è bello vedere anche tutti i ragazzi che in questi anni sono passati, sono rimasti e sono cresciuti. Ecco, appunto, è bello vedere questa energia di tanti ragazzi, di tanti giovani che collaborano insieme. Sì, si pensano, mi viene detto spesso, cosa fanno i ragazzi della Pondolfaccia? Ormai il ragazzo Fabio è arrivato quasi a 40 e passa anni, ma ci sono una marea di ragazzini nuovi, di ragazzi che erano piccoli, che ormai sono diventati grandi e responsabili dei settori della Pondolfaccia. Chi sono i curatori della mostra? L'idea era quella di non farla a noi, ma di chiedere a qualcun altro che potesse vedere l'immagine e raccontare con gli occhi di qualcun altro che è esterno all'evento. Poi abbiamo trovato di base degli amici, quindi dobbiamo ringraziare Raffaella Manna, Giulio Marcucci e Gloria Riberti, che si sono impegnati nella scelta e nella realizzazione di tutto quello che vedrete qui. In che orari è possibile visitarla? È possibile visitarla tutti i giorni, fino al 9 luglio, dalle ore 21 alle ore 24, ed è chiusa lunedì. Grazie.